ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video io sono vanessa questo il canale del boom italiano in questo canale si parla di lingua e cultura italiana e anche di libri che possono esserci utili se siamo degli appassionati di lingua e stiamo studiando l'italiano come seconda lingua ma anche se siamo italiani e vogliamo approfondire e conoscere meglio la letteratura italiana contemporanea e anche dei grandi classici oppure la letteratura straniera tradotta in italiano in questo caso oggi parleremo di libri ma in particolare di un libro che può essere molto interessante sia per chi sta studiando l'italiano sia per chi in realtà è italiano e vuole leggere qualcosa di interessante a me è capitato abbastanza casualmente è stato un regalo che è arrivato così a casa molto rapidamente ed è un libro non così vecchio abbastanza contemporaneo si tratta del libro di domenico starnone lacci questo è un libro piccolo quindi abbastanza facile da gestire peraltro perfettamente suddiviso quindi per chi sta studiando l'italiano è l'ideale perché potete ovviamente leggere il testo e fermarvi tutte le volte che avete voglia perché i capitoli sono molto piccoli e quindi è molto facile potersi orientare da un punto di vista proprio tecnico nella lettura stessa cosa vale per quanto riguarda il linguaggio il linguaggio è molto diretto e colloquiale i periodi non sono eccessivamente complessi quindi è una lettura che si può facilmente seguire senza perdersi all'interno della scrittura e al contempo è scritto in maniera molto bella molto lineare, molto piacevole lo scrittore ci porta dentro il mondo dei personaggi veramente prendendo alla pancia prendere alla pancia l'italiano significa essere molto diretti e toccare gli istinti principali del nostro ascoltatore cosa dire di lacci? innanzitutto che l'ha scritto Domenico Starnone un autore napoletano ancora in vita, è nato nel 1943 ha scritto altri libri, molti altri libri questo libro in particolare parla poi di famiglia quindi è un libro che veramente ti stende immediatamente perché le prime 40 pagine circa sono veramente una botta colossale perché parte direttamente con il botto ovvero una moglie scrive delle lettere al suo marito e queste lettere sono devastanti perché le scrive? perché il marito è andato via di casa e quindi lei non comunica più con lui e cerca attraverso le lettere di comunicare quello che le sta succedendo ma anche la situazione familiare la situazione con i bambini eccetera quindi una situazione veramente per lei drammatica e noi vediamo scivolare sempre peggio questa donna all'interno delle lettere in un turbinio di disperazione crescente che si alterna a momenti di rabbia e a momenti di orgoglio che si alternano a gestione dei problemi della quotidianità di che si tratta una famiglia come tante una famiglia di quattro persone moglie e marito e due figli un maschio e una femmina e un giorno a un certo punto il marito lascia casa e dice alla moglie che si è innamorato di un'altra dopodiché da questa diciamo così da questo allontanamento unilaterale che la moglie ovviamente dovrà accettare lei si ritrova chiaramente a dover gestire i figli che sono ancora piccoli più o meno uno di 9 anni una di forse di 11 da sola perché il marito entra un po' più in crisi netta e non riesce a fare niente praticamente non riesce a occuparsi dei bambini non riesce ad andare non riesce a trovare un dialogo diciamo così normale con sua moglie senza che questo sfoci puntualmente in un litigio oppure in una serie di recriminazioni e quindi la moglie inizia a scrivere queste lettere che però sono veramente cariche di una tensione totale e che sin dall'inizio il lettore percepisce in maniera molto forte io vi dico solo che dopo aver letto le prime 40 pagine la notte ho fatto degli incubi pazzeschi perché questo libro mi è proprio rimasto addosso non leggetelo quindi prima di andare a dormire però detta così sembra una cosa molto terribile in realtà poi dopo il libro continua a narrare la storia di questa coppia però con dei toni un po' diversi perché cambiano i punti di vista dei personaggi questa è una bella cosa di questo libro Lacci perché l'autore in maniera molto intelligente secondo me ha creato proprio una sorta di visione calidoscopica degli eventi cioè questi eventi possono cambiare forma costantemente a seconda del punto di vista che li racconta quindi la prima fase è stata la storia di questi quattro lunghi anni senza il marito perché il marito mancherà da casa per ben quattro lunghi anni vista dalla parte della moglie banda poi abbiamo la storia vista dalla parte del marito e poi in finale insomma la terza il terzo punto di vista il terzo occhio che racconta la storia sarà quella della figlia femmina di uno dei due figli in particolare proprio la figlia femmina sul finire proprio degli eventi in tutto questo naturalmente questi flashback tra Napoli e Roma in particolare poi Roma perché i protagonisti abiteranno tendenzialmente lì e quindi c'è questa visione anche della città sullo sfondo che non è mai protagonista intendiamoci però c'è anche l'elemento diciamo così urbano che intercorre oltre anche agli eventi della casualità cioè tutto questo impianto narrativo nasce da degli eventi casuali che riportano alla memoria dei protagonisti il passato il passato che tutti noi teniamo quello che non ci piace ovviamente teniamo nascorso molte volte in un angolo in un retropensiero del nostro cervello e magari cerchiamo di non dargli troppa importanza e ovviamente ogni tanto piccoli dettagli possono portare alla luce i ricordi del passato e ravvivare in noi il desiderio di crogiolarvisi all'interno consiglio quindi moltissimo Lacci che è veramente un bellissimo libro per tutti se avete voglia di come dire passare un pomeriggio un paio di pomeriggi all'insegna dell'introspezione dei sentimenti e non avete paura magari di entrare all'interno di personaggi molto scomodi ma che però hanno veramente una crudezza una verità sono talmente tanto realistici da sembrare proprio vicini a noi perché quello che viene raccontato in questo libro se non vissuto direttamente magari nelle nostre famiglie eccetera è comunque qualcosa che potremmo immaginare avvenire quotidianamente nelle famiglie di tantissime persone che ci circondano proprio perché l'evento della separazione e anche l'evento delle riconciliazioni delle crisi di coppia delle crisi familiari è qualcosa che colpisce tutte le famiglie in varie forme quindi i sentimenti i non detti i rancori le rabbie e i perdoni sono all'ordine del giorno all'interno delle famiglie e molto bene mi fermo qui vi faccio rivedere di nuovo la copertina e se vi è piaciuta questa recensione fatemelo sapere se avete già letto l'ACI e volete lasciare un commento fatelo pure nel frattempo vi invito se non l'avete fatto iscrivetevi al canale troverete anche altri contenuti in altre rubriche ne creerò varie nel corso del tempo e vi ringrazio per aver seguito questa questa piccola diciamo pillola di lettura e noi ci vediamo la prossima volta ciao